E buongiorno a tutti signore e signore e bentornati sul mio canale e soprattutto bentornati su Heroes in General Oh mio dio la visuale è invertita C'è un po' fatica ok buttiamoci Buttati 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 Oh mio dio che cavo figata eh Tanto mi sono buttato malissimo i miei compagni anche loro si sono buttati Devo azionare il paracadute prima Perché così riusciamo ad arrivare su A2 correttamente Passiamo dal tetto e vediamo che riusciamo a combinare Ebbene sì ragazzi abbiamo il paracadutista Bellissimo con anche un bel mitrozzo che ci ho sbloccato ovviamente prima di farvi il video Perché è epico è epico ragazzi è bellissimo Oh merda il nostro fratello è morto Posizione brutta Eccolo eccolo Ragazzi il nemico Il nemico Il nemico Non muore Aiuto 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 Ok ok è morto è morto è morto Oh merda Scusatemi è per ogni tra che abbiamo Fai un po' palordo Aiuto 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 il nemico il nemico aiuto Perché non mi aiutate No aiuto 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 Granate granate c'è C'è qualsiasi cosa Oh mio dio calmi No 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 Adesso crepo Adesso crepo Siete delle merda Vi odio tantissimo Siete delle merda Mamma mia guardalo guardalo Caretino ci sei crepato Faccia da culo E ogni pregadutista che si rispetta Si fa un bel giretto in bici E crepa E ragazzi che ci credete no Ma buttarsi dal Dal Dall'aereo Bisogna essere veramente molto forti Si può anche andare in terza persona Ed è Bellissimo secondo me Però Molto meglio A direzionarmi bene In prima persona Ok Aspetta 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 Vai buttati 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 Vai 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 Devo ancora azionare il paracaduto Vorrei ricordarvi questa cosa Adesso andiamola alla fine Così proprio Non ci sgama nessuno Ok Cerchiamo di girare tutti sti nemici Fatti male Oh mio dio Ok siamo Siamo soli Contro Nessuno E poi capiamo Giusto Ragazzi intanto che siamo ancora qui A Cercare di buttarci giù Volevo ricordarvi Che questo È il non episodio di Heroes in Generals E il decimo episodio Per voi Aspetterà qualcosa di Secondo me Bello Oh Siamo davvero sul tetto Merda Mi son fatto malissimo Sono un coglione Sono Ma non mi fai mica più Faccia la culo Adesso vengo a ucciderti Buttammerda Oh Oh mio dio Posa un colpo Comunque Era con me Il decimo episodio di Heroes in Generals Sarà un bel funny moment Che aspetterà solo il vostro arrivo Mi raccomando Guardatevelo tutto È corto Scorrono via Qui cinque minuti e mezzo di video Scorrono via Tantissimo Dunque Vi invito A guardare Quel video Nemico ragazzi Nemico Nemico L'ho beccato L'ho beccato L'ho beccato Ok conquistata Conquistata Ah Ah M'ha preso M'ha preso No 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 Scappa Scappa Merda Ok 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 Piano Piano Io Io sono troppo Sono troppo Potente Devo Devo cercare di ucciderlo Ed è conquistata Conquista Oh Oh Questa è bellissima La voglio La voglio La voglio La voglio Bellissima questa L'amo Quell'arma qui Mamma mia Certo La mia arma preferita In Eros È il mio caro Amato Johnson Qual è la vostra? Tanto qui ce n'è Uno Fatemelo sapere nei commenti Qual è la vostra arma preferita In Eros Ho fatto la double E poi sono morto dall'altro Ebbene ragazzi Altro volo Altro lancio Siamo qui con il nostro compagno Vediamo che riusciamo a fare Dobbiamo Parcutarci al momento giusto Per atterrare Precisamente Nel tetto Ok vai Questo potrebbe essere La mossa Vincente Forse anche un po' troppo tardi Ma no Ma in realtà va anche bene Dentro le texture Possiamo ammirare Le bellissime texture Che si caricano Dopo Ma noi siamo Soddisfatti di questo Siamo pure orgogliosi Avanziamo ragazzi Avanziamo No Ah no no Aspetta Non è morto Non è morto Devo ucciderlo io Devo ucciderlo io Sì l'ho ucciso io Bella Ok Sei morto un po' male Mi dispiace amico Ok ragazzi Scendiamo di qui Potrebbe essere però La mossa Che ci fa Crepare male Ma va bene Speriamo bene Oh mio dio Oh mio dio Oh ok Sei con noi Posa un colpo Andiamo su O2 E vediamo Che succede Qua i nostri compagni Dicono di difendere O2 Ma noi invece L'attacchiamo Proprio Quisi di cattiveria Andiamo ad attaccare O1 Va Che La difesa Non è il nostro Forte Ok Stiamo per prendere O1 In tal caso La vittoria È nostra E È nostra Ragazzi È nostra Stiamo proprio per prendere Mancano gli ultimi secondi Prima Nel nostro Trionfo Da paracadutisti La nostra Prima partita Su Heroes in general Con il paracadutista Potrebbe essere Una gran vittoria Vediamo Tutto Da noi Restate nel canale E non cambiate canale Mi raccomando La pubblicità in onda E abbiamo vinto Abbiamo vinto Ragazzi abbiamo anche Sorpassato il livello Fantastico Mamma mia Sì 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 Che cacchio vuoi Tadda ma Abbiamo fatto buono E anche troppo bene Purtroppo la partita Era un po' moscia Ma Non c'erano troppi Troppi giocatori Tanto ho posto All'ambulanza Mentre parlo Ma va bene Però Spero questo video Vi sia piaciuto In tal caso Un bel mi piace Altro 289 E poco Un bel mi piace Un bel commentozzo E Che altro dire Iscrivetevi al canale Per nuovi video E ci becchiamo Alla prossima E ci becchiamo